Abbiamo una crescita fortissima dopo questi anni di stasi e ovviamente abbiamo recuperato molto, si parla addirittura nel settore della gioielleria e dell'orificeria di un più 110%, quindi un dato assolutamente importante e un dato stabile per quanto riguarda i metalli preziosi, quindi diciamo l'oro in forma, l'oro è argento, insomma in forma diciamo di ingotto. Nel primo semestre 2021 le esportazioni distrettuali toscane hanno superato i 10 miliardi di euro, avvicinandosi ai valori pre-crisi, il rimbalzo è del più 45,8%, analizzando nel dettaglio i singoli comparti, il sistema Moda che aveva subito il calo più marcato ha mostrato buone capacità, ma quello che ha avuto incrementi maggiori è quello dell'orificeria con il distretto aretino in testa. Abbiamo recuperato tutta la perdita 2020, quella parte di assoluta stasi del mercato è stata doppiata, considerando anche che purtroppo non si sono potute tenere le nostre fiere, quindi Oro Arezzo e Gold Italy che nel 2021 non sono state realizzate, è un dato assolutamente positivo per le nostre imprese che sono anche molto ancora cariche di ordini e commesse per il prossimo futuro. Certo è che ci troveremo di fronte a problematiche legate sia al riferimento delle materie prime, legate al costo delle materie prime, così ai costi energetici e anche al riferimento di manodopera, che saranno gli aspetti con cui dovremo confrontarci in un prossimo futuro e con cui le imprese già fanno un po' i conti, già nasce da loro un po' di allarme, un grido d'allarme perché sicuramente saranno i temi rilevanti di questo settore, ma non solo, anche degli altri naturalmente, ma in particolare di questo che è primario per l'economia retina. E rimane il problema del costo della materia prima che è significativo e incide soprattutto sul valore aggiunto, però direi che dal settore orafo ci aspettiamo una performance di ripresa abbastanza significativa nel 2021. I dati dell'export sono estremamente incoraggianti per quello che riguarda soprattutto l'oreficeria e quindi riteniamo che in questo momento bisogna stare vicino alle aziende, abbiamo posto in essere come Camera di Commercio delle iniziative interessanti anche come quella del Summit per il mondo orafo e dell'oreficeria che si terrà a dicembre, il prossimo dicembre in collaborazione con Arezzo Fiere e IEG, il Comune di Arezzo. Credo che ci siano tutti i presupposti anche nell'anno prossimo per riprendere quell'attività che purtroppo è stata sospesa delle iniziative fidelistiche nel nostro territorio, mi sto riferendo in particolar modo a Orarezzo. Quindi bisognerà sicuramente presidiare con un calendario di eventi importanti e accompagnare le nostre imprese a questi appuntamenti che sono comunque irrinunciabili.